La crisi c'è ed è evidente. Inutile che qualcuno voglia farci credere che c'è una ripresa. Lo spread sale, il Paese rischia grosso anche di fronte a un'Europa flagellata da un'ondata sovranista senza precedenti. C'è però da sottolineare che nonostante il momento sfavorevole e i posti di lavoro sono ridotti all'osso. C'è ancora però qualche settore produttivo in grado di soddisfare chi ha veramente intenzione di trovare un'occupazione di qualcuno che abbia voglia di lavorare. La notizia emerge dalle dichiarazioni fatte nei giorni scorsi dal presidente di Talscania Unrae, l'Unione Nazionale dei rappresentanti di autoveicoli esteri, Franco Fenoglio, che ha lanciato l'allarme perché in Italia non si trovano meccanici. Notizia sorprendente, ma vera, visto che il settore gode ottima salute con le sue 83.231 imprese attive in Italia, ma che ha bisogno del supporto di personale che tenga in stato di salute motori e mezzi. Molti pensano che fare il meccanico significa ancora sporcarsi le mani di grasso, ha detto Fenoglio, senza però rendersi conto che oggi la meccanica funziona grazie alle nuove tecnologie. Pertanto più che la solita tuta blu, un camice bianco, porte aperte dunque a quei giovani che vogliono affrontare la vita attraverso un mestiere ancora adesso sicuro. E beh ragazzi, mettetevi in moto e partite.